Benvenuti su News Flash Italia. Vi invitiamo a lasciare un like, commentare e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie. Grazie! La scelta di Ida Platano a uomini e donne è sempre più vicina. La tronista si trova alla fine del suo percorso con due corteggiatori, Mario Cusitore e Pierpaolo Siano, un'avventura fatta di alti e bassi che ha lasciato spesso i telespettatori senza parole. Tuttavia qualcuno sostiene che Ida abbia in mente un finale ancora più scioccante. Si tratta dell'ex dama Veronica Ursida, che ha un'idea chiara di ciò che accadrà alla scelta. Secondo Veronica, Ida ha un piano da tempo. A suo parere, la scelta uomini e donne sarà solo frutto di strategia, per cercare di mantenere visibilità il più a lungo possibile. In sostanza, sceglierà Mario Cusitore non per un interesse sentimentale, ma per garantirsi un posto in un altro programma molto amato di Maria De Filippi. Veronica Ursida sostiene che Ida lascerà uomini e donne con Mario solo per entrare a Temptation Island. Tuttavia, al termine del programma dei sentimenti, lo lascerà. Se questa previsione si rivelasse vera, a settembre la Platano potrebbe tranquillamente tornare a sedersi nel partito.